È stata una notte di San Silvestro tragica per una giovane coppia di Cavallino che ha dovuto fare conti la sera del 31 dicembre con la morte del figlio non ancora nato. Durante il tracciato, medici e infermieri si sono accorti che il cuore del piccolo non batteva più. Una tragedia è venuta nel reparto di ginecologia e ostetricia del Vito Fazzi, dove la ragazza di appena 21 anni si era trattenuta per i tracciati, gli esami che monitorano il battito cardiaco del piccolo. In serata, la tragedia è comunicata alla giovane coppia che si è vista crollare il mondo addosso. Eppure, sino a quel momento, tutto sembrava essere andato per il meglio. Solo qualche giorno prima la ragazza aveva accusato di forti dolori. Era l'11 dicembre e i medici del Vito Fazzi, che aveva raggiunto per un controllo, le avevano constatato l'inizio del travaglio, invitandola a ricoverarsi. Dopo circa 24 ore, però, la donna era stata dimessa, le contrazioni si erano fermate e il parto sarebbe stato rimandato di qualche giorno. Purtroppo le cose non sono andate così. Il 31 dicembre la ragazza è tornata in ospedale per eseguire i tracciati di preparto, sino a quando in serata è arrivata la terribile notizia. I familiari hanno sporto denunce ad ora, chiedono chiarezza. La procura ha aperto un'inchiesta del PM di turno. Il dottor Emilio Arnesano ha disposto l'autopsia sul feto.